Tornano in scena gli studenti del liceo classico Ovidio di Sulmona con la rappresentazione in mutare delle forme in corpi nuovi direttamente ispirata alle metamorfosi del poeta latino. Lo spettacolo con la regia di Mario Massari andrà in scena il 24 settembre alle 21 nella centralissima piazza 20 settembre per chiudere la quinta edizione dell'Ovidio Running, gara potistica organizzata dall'SD Runner Sulmona in sinergia con l'Istituto Superiore Ovidio. A interpretare i primi passi del capolavoro ovidiano saranno proprio cinque studenti del liceo classico Niccolò Desiati, Matteo Marrese, Beatrice Marsolini, Sofia Schiavo e Noemi Tortis. Gli studenti saranno sulla scena insieme agli attori Mario Massari, Milo Vallone e Valentina D'Andrea al collettivo di danza e agli ospiti del centro diurno Giuliana Fapore e il dipartimento di salute mentale Asluno Abruzzo all'insegna di un'arte che in tutte le sue forme unisce e si fa portavoce di un profondo valore educativo.